Allora, innanzitutto, di che cosa parla questo libro? Questo libro parla di tre personaggi, della storia di tre personaggi, un ragazzo di 17 anni, chitarrista, appassionato di musica e innamorato, un giovane che decide di diventare soccorritore dell'ambulanza, della Croce Bianca, sulle strade di Genova e un uomo che si sveglia dal coma. Si sveglia dal coma e si accorge per la prima volta che esiste, che c'è e che la vita gli è regalata. Come questi tre personaggi si incontrano, hanno a che fare l'uno con l'altro, attraverseranno l'itinerario dal luogo buio del loro punto di partenza fino a una luce, è tutto il percorso della trama. Quindi, in qualche modo, racconta l'avventura di attraversare un luogo buio per trovare una luce di significato. Ecco, lei è un educatore e in questo libro c'è molto del suo percorso professionale, giusto? Sì, perché tante delle scene che sono descritte nel libro nascono dall'intensità di esperienza che ogni giorno è possibile vivere in classe, nel rapporto con i ragazzi, nel dramma che è questo rapporto, nella ricerca di significato che ogni giorno mette a tema l'insegnamento. E poi alcuni personaggi hanno a che fare con l'educazione, perché uno è un ragazzo che cerca se stesso e un altro è un insegnante che lo aiuterà in questa ricerca. Avete in programma un incontro a Clusone? Domani sera alle ore 21, proprio nel bar L'Eroi, avremo la possibilità di dialogare insieme sul romanzo, di fare una specie di evento che vedrà le letture del professor Rossi e avrà una piccola band di accompagnamento, perché il romanzo è anche in tessuto di musica, quindi sarà un evento letterario musicale e avremo l'occasione di dialogare insieme. Ecco, ancora una domanda, si sente più insegnante o scrittore? Per me le due cose sono inscindibili, perché nella intensità di esperienza che è l'insegnamento, in questo dialogo continuo tra il cuore mio e il cuore dei ragazzi, emerge tutta la materia e tutta l'intensità di vita che poi alimenta quello che scrivo. E d'altra parte la mia attività di scrittore è una passione che in qualche modo aiuta i ragazzi, che li introduce a quell'universo affascinante umano che è la letteratura. Anna Serena Pirola si occupa delle relazioni pubbliche del VEST, dell'istituto paritario e clusonese che conosciamo, e domani sera presenterà questo incontro. Come mai è coinvolta la scuola in una serata come questa? Ringrazio dell'ospitalità, noi siamo a Clusone, ho l'onore di sostenere l'opera della scuola VEST che si pone sul nostro territorio come una presenza bellissima, una scuola aperta al mondo e a disposizione di tutti i ragazzi del territorio. L'iniziativa di presentare il romanzo da questi luoghi bui di Francesco Fadigati è dovuta ad un'amicizia. Conosco personalmente Francesco Fadigati e non dimentico mai che nel suo ruolo di insegnante, con la passione che mette tutte le mattine nell'incontro a lezione con i suoi ragazzi, è maturato anche il suo talento di scrittore che abbiamo modo anche in questo secondo romanzo sicuramente di rintracciare come è stato con quello che ha preceduto, che è stato un successo. La congiura delle torri presentato di recente ad Astino, dove l'autore, con Maria Teresa Brolis, grande ricercatrice di storia medievale, ha portato il romanzo di dove è nato. È un onore per noi presentare questo romanzo qui a Clusone, in Altavalle, vicini a Natale. Il nostro modo per fare gli auguri è per dire a tutti che il futuro è dell'educazione. La più grande speranza per i nostri ragazzi, le nostre famiglie, anche dell'Altavalle, è una scuola di qualità ovunque, in ogni paese.